un gioco leggero però il piccino non lo riesce manco a reggere io vedo gli ubriachi o ormai quasi dieci anni ciò anzi per quello che quando ho preso era già vecchio quando l'ho comprato e ci perci credo che c'è la gente che può dire professionista non è maledetto spadone mani mi sto distruggendo un altro spadone mani la scuola la testa testo fermata la torre d'assedio quella cosa si distrutta poi proprio così di poter poca caro non lo so si possono distruggere pure si devono non lo so 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 scusò 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 ah sei anni eh si è normale perché si deve fare i denti Ti consiglio di prendere proprio cose adatte per la masticazione. Ti consiglio, no, più che altro evitare cose di corda, perché loro finiscono per mangiarsene, quindi restano nello stomaco. Ti consiglio cose di cauchou, un po' ossa di gomma, cose del genere. Io almeno ai tempi comprai un osso in legno, però è un legno masticabile, l'ha polverizzato tutto. L'ha letteralmente sbriciolato. Poi ovviamente dopo che supera la pubertà, appena arriva la pubertà, inizia sempre a poter giocare, però non è più così, diciamo, guerrafondaio nel senso che vuole masticare qualunque cosa, perché appena si fa i denti non sarà più, diciamo, così distruttivo. Beh, è normale, ci sta. Abbiamo fallito. Oh, dentro una torre da sedia è un nemico. Mi stanno bruciando vivo. Oh no, no. Mi stanno tirando la pesce a me, se no dentro la torre nemica. Beh, da qui non passate. E' Andrea, io fra poco devo staccare. Ah si è dovuto, si è fatto tardi. Vediamo se perdiamo questo settore in questo stacco. Penso di avere il tempo di fine alla partita. Ho preso un antofero. E' ho resistito tanto là dentro. Ah ecco, ho resistito veramente un sacco di tempo dentro la torre. Stavolta sono molto tanto. Come on, run, man. Maledizione. Maledizione. Au. Eh, sono troppi. Ah. No, stiamo perdendo la torre di guardia. Forza ragazzi. Possiamo farcela. Oh. 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 Ehi, sono qui. Ma argomento molto complicato. In generale è la pasta. Poi dipende. Sì, sì, mi piace. No, questa è una domanda impossibile. Non posso rispondere. Sono tutte e due equamente, cioè non c'è uno punto in mente. No, per me i pizzeri pizzeri vanno bene entrambi. Esatto, non li puoi scegliere. Non puoi prendere una cosa all'altra. Au! Au! Dai che mancano due volte e abbiamo vinto. No, dai. Siamo così alla vittoria. Ma tu dove spunti? No, non lo so che mi tricolta è lì sto pugnalatore. Ancora abbiamo la superiorità numerica. Non voglio portare sfortuna ma penso che abbiamo vinto. No, veramente, vero... Aaaaah! Veramente ridicolo come cosa. Ma penso che in venti secondi non ce la fanno. Però veramente, dobbiamo essere tipo schifosamente scasso per farlo prendere. Allora... Quattrole dobbiamo fermi. Dobbiamo solo rimanere in vita qui dentro. Non sarò sempre suicidata... Sì, nonché anch'io mancano cinque secondi, ma non ho una speranza. a pacco fiori vabbè ragazzi ringrazio andrea per la compagnia tutti voi mi devo staccare al volo alla prossima gentaglia ciao